Io sono arrivato un po' tardi nel magico mondo di internet perché non avevo una connessione decente per navigare come si deve. Prima di far parte di questo ecosistema fuori dal comune non mi aspettavo avrei trovato così tante stramberie video, che a volte qualcuno più in alto vuole far eliminare, perché magari mostrano verità scomode o comunque non sono per le persone sensibili, o chissà quali altri motivi. Come girano ormai da anni, forse sin dalla nascita dalla rete per quante volte provino a eliminarli, c'è sempre qualcuno che li rimette online. Per questo motivo possiamo andare a vederli oggi, siete curiosi? Allora preparate i popcorn e partiamo! Maschere segreti Nel 2014 ad Oakland un misterioso incontro è avvenuto tra due studenti universitari e una coppia mascherata. Gli studenti stavano facendo un paio di filmati in zone lontane e abbandonate per creare un piccolo film horror. Il loro professore gli aveva chiesto un progetto unico e in effetti lo era. Avevano incontrato due loschi figure in un'area chiamata Parkland. Erano fermi, immobili, usciti all'improvviso da dietro i cespugli, forse arrivati dal bosco con indosso delle maschere. Non dicevano niente. Il ragazzo continuava a filmarli, voleva capire se stavano guardando loro o qualcos'altro. All'inizio pensava fosse uno scherzo. In quegli anni molti erano i prank del genere. Non c'erano regole ancora che limitassero questi scherzi, a volte finiti male. All'improvviso avevano cominciato a muoversi e i due studenti sono corsi via. Perché sembrava avessero delle armi in mano. Non bisognava scherzare con certa gente. E certe cose ovviamente. Cosa volevano? Difendevano qualcosa. Lo stesso giorno, pochi minuti dopo, erano andati dalla polizia. Dovevano avvertire le autorità. Lasciare la situazione come era poteva essere molto pericoloso. All'inizio erano un po' increduli, ma si sono convinti velocemente. Se fosse successo qualcosa nel paese a causa di due rosche figure, non se lo sarebbero mai perdonati. La stazione di polizia aveva mandato due persone a controllare. Non riuscivano a trovare niente. Zero. Nemmeno una piccola traccia. Dove potevano essere spariti? Stavano già per fare qualcosa di pericoloso. Erano molto preoccupati. Intanto gli studenti erano ancora alla stazione a descrivere la situazione e anche per sicurezza. Non si fidavano uscire troppo presto. Magari volevano cercarli per farli dimenticare nel peggiore dei modi ciò che avevano visto. La polizia era preoccupata, come non mai a questo punto. Pensavano fosse un semplice scherzo fatto da dei ragazzini, ma poteva anche non esserlo. Avevano quindi pubblicato un post su Facebook chiedendo ai due sospettati di farsi vedere in stazione e dare spiegazioni. In modo da non far partire una caccia all'uomo. Perché nel caso vengano individuati soggetti pericolosi con armi in mano per legge e potevano mandare fuori i loro agenti con armi in mano, con pallottole vere, da usare, la situazione poteva mettersi molto male. Chi erano? Cosa volevano? Perché fissavano i due studenti senza nemmeno parlare? O comunque avvertirli di andarsene? Banshee Non tutte le fate sono buone ed è importante ricordarlo. La Banshee è una creatura leggendaria dei miti irlandesi e scozzesi. Ai tempi di oggi pensano tutti sia una leggenda, ma nell'antichità era una creatura temuta e malvagia, ritrovabile specialmente nelle foreste. Alle fattezze di una donna avvolta da un velo con il volto sofferente. Di solito non si presentano mai a nessun essere umano, anzi quasi nessuno, soltanto a quelli che sono vicini alla morte. Perché vi dico tutto ciò? In Irlanda alcuni ragazzi si erano addentrati in un bosco che secondo le storie locali era infestato. Non si capiva bene da cose, quindi loro volevano saperlo. Erano molto coraggiosi, ma non si aspettavano di spaventarsi così tanto. Verso mezzanotte, quando ormai la luce era sparita del tutto, hanno ripreso per sbaglio una creatura inquietante. Secondo molti era proprio una banshee. In Irlanda se ne parla spesso e questo video aveva convinto i ragazzi a non tornare mai più in quel bosco inquietante. Si chiedevano quindi cosa ci facesse lì e se davvero la loro fine stava per arrivare. Treni In treno sfortunatamente si può rischiare di fare brutti incidenti, a volte per errori umani che possono costare caro. Questo ciò che è successo il 20 maggio 2018 in Messico, a Chihuahua, dove due treni hanno avuto uno scontro con un disastro senza precedenti. Le fiamme che si erano generate si potevano vedere per chilometri. Qualcuno era riuscito ad arrivare sul posto e aveva cominciato a filmare. Un video che però è diventato famoso su internet per un dettaglio inquietante. Come potete notare, ad un certo punto una specie di fantasma salta tra i vagoni e sparisce nella nebbia di fumo. Su internet sono nate molte teorie, tra cui quella del Senza Volto della Città Incantata, famoso film d'animazione dello studio Ghibli. Cosa sarà stato davvero? Non identificato Un importante scienziato di nome Boyd Bushman, morto ormai nel 2014, aveva rivelato dei segreti che forse non dovevano essere rivelati per molti. Poco prima della sua morte aveva fatto un video dove svelava segreti sull'area 51 e sugli americani. Anzi, forse erano proprio segreti del mondo, con foto di varie cose come prova. Non era uno da poco, era molto importante. Aveva lavorato per più di 40 anni in aziende importantissime come la Lockhead Martin. Alcuni eventi nel mondo, catalogati come misteriosi, rientravano negli esperimenti dei ricercatori dall'area 51, come per esempio l'incidente di Roswell dove si erano schiantati dei dischi volanti non identificati. Secondo le sue dichiarazioni, nell'area 51 esistono tecnologie avanzatissime che venivano rese note piano piano al mondo in modo da adattarle alle abitudini della società. Tecnologie prese direttamente da questi strani alieni, che addirittura sono tutt'oggi sotto esperimenti importanti. Alcuni dischi volanti sono anche di creazione umana. Gli ingegneri infatti starebbero cercando un modo per riuscire a creare aerei senza ali, in grado di volare e di tanto in tanto fanno dei test provandoli in cielo. Questo crea appunto gli avvistamenti di cui tanti parlano. A prova di ciò ci sono molti disegni di prototipi di velivoli volanti senza ali. Le sue dichiarazioni non finiscono qua. In un video su YouTube cancellato più volte raccontava di tantissimi piccoli fatti interessanti sul mondo in generale. Addirittura l'area 51 sarebbe solo un piccolo pezzo di un puzzle di basi segrete molto più estese e in varie parti del pianeta. Sarà vero? Quest'uomo sapeva così tanto. Catacombe di Parigi Con una lunghezza di 285 chilometri le catacombe di Parigi si estendono in vari punti, spaventando a volte molte persone. Si parla di un labirinto difficile da esplorare dove i resti umani e tanti altri segreti da svelare come pitture inquietanti sono all'ordine del giorno. Nei primi anni erano più un deposito di ossa. Interi muri erano stati creati con queste cose. Più avanti si decise di utilizzarle come cimitero. Da qui sono nate tante storie di spiriti ed eventi fuori controllo. Essendo sotto la città di Parigi non potevano essere costruiti palazzi troppo alti e pesanti. Comunque da qualche anno gira in rete un video a dir poco spaventoso. Ritrovato casualmente un uomo stava esplorando le catacombe, spaventato, come se fosse inseguito da qualcuno o qualcosa. Ansimava e cercava un'uscita senza sosta. La sua esplorazione forse stava andando avanti da ore, chi lo sa. Alla fine si era letteralmente messo a correre, lasciando a terra la videocamera. Cosa lo stava perseguitando? Molti esperti hanno visto il video per capire la situazione. Non c'era nulla di così particolare. Non si vedeva nemmeno tanto bene, visto che era tutto buio e senza luci. Alcuni credono l'uomo avesse semplicemente avuto un attacco di panico per via della claustrofobia. Ma quale persona sana di mente con un problema del genere andrebbe dentro catacombe così strette? Quindi quest'ultima ipotesi era stata scartata. Rimane solo da capire se davvero esistono esseri misteriosi che infestano la zona. A Cordoba in Argentina una misteriosa serie di luci ha sconvolto una guardia notturna di nome Edoardo. Durante il suo turno stava osservando gli strani movimenti del radar di sorveglianza. Aveva quindi deciso di alzarsi e controllare di persona. Doveva impedire a qualunque intruso di entrare. Era il suo lavoro. Arrivato sul posto aveva trovato dei piccoli cerchi di zone bruciate. Con il fumo che ancora si sentiva, quindi era di poco tempo fa. L'uomo era senza parole. Intanto il suo cane continuava ad abbagliare senza sosta. Ad un certo punto alzando la telecamera aveva visto delle strane luci davanti a lui. Forse erano occhi, chi lo sa. Erano molto luminose e avevano spaventato l'uomo che era corso via subito. Fortunatamente non gli è successo niente ma in un'intervista più in là ha detto di aver sentito anche strani suoni. Suoni simili a versi come se quegli esseri stessero parlando. Ma niente di animalesco. Qualcosa di ancora più incomprensibile. Non si era mai spaventato così tanto. La mattina dopo in effetti la polizia aveva trovato le parti di terreno bruciate ma non si spiegava com'era possibile. Avevano quindi archiviato la cosa. È un crimine bruciare terreno privato senza controllo ma non essendoci tracce dei trasgressori non si poteva fare nulla. Da allora Edoardo è molto attento e spera quegli esseri non tornino più. Armature mimetiche Sembra la tecnologia nel mondo stia andando molto avanti specialmente quella militare. Senza che ce ne rendiamo conto in alcuni paesi sempre più soldi vengono investiti in armature o armi futuristiche. Moltissimi anni fa girava un video rarissimo originario del Giappone dove veniva mostrata una specie di nuova tecnologia in grado di far mimetizzare completamente un soldato nella natura. Ma in realtà non esiste una tecnologia in grado di fare ciò. O almeno non ne esistono in commercio. Ci sono prototipi e versioni meno potenti. Questo video sembra fosse una specie di propaganda militare. Nel video originale c'è una canzoncina di sottofondo molto carina e che richiama quasi un inno. Quindi la mimetizzazione estrema che si può vedere è più un editing fatto a computer con vari programmi. Ma una domanda si sono fatti moltissimi. Come mai è stato quasi del tutto oscurato dalla rete questo video? Alcuni credono possa essere reale e che quindi i giapponesi abbiano tecnologie davvero avanzate che non vogliono mostrare troppo presto. Con questo concludiamo. Sembra che di video strani e complotti il mondo sia pieno quindi probabilmente tornerò con un altro episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace e attivate la campanellina delle notifiche per ricevere nuovi aggiornamenti ogni giorno. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo. Grazie a tutti.